Ci sono servitori dello Stato che servono lo Stato e ci sono servitori dello Stato che servono la mafia. E questa è la ragione per cui la mafia dura e per cui la lotta dello Stato contro la mafia è un'espressione, è una parola, è uno slogan, è una frase, ma non esiste nella realtà. Perché se tutto lo Stato decidesse di combattere la mafia, lo Stato ha 350.000 forze dell'ordine, armate più l'esercito. Le mafie tra mafia, Camorra, Andrangheta e Sacra Corona hanno 30.000 affiliati. Vi pare possibile che un esercito dieci volte superiore non riesca ad avere ragione da duecento anni di un esercito di un decimo?